Io avevo questo libro, Mentre dorme il pesce cane, ho detto ma io lo mando, no? Ma non avevo, diciamo, prima di Mentre dorme il pesce cane, non avevo, avevo scritto sempre varie cose tenute negli scatoloni, no? Ma come scrivono tante persone? E poi mi era venuto in testa appunto di mandarlo, erano vari racconti, poi un uomo a cui tenevo molto mi ha detto perché non unisci racconti e non li fai incontrare tutti questi personaggi? Allora ho fatto questo lavoro ed è venuto fuori il libro, Mentre dorme il pesce cane, allora ho detto ma che bello, ho detto mi sa che io provo, allora in segreto perché... Non sei arrivata in aula e hai detto ragazzi, ho mandato il maloscritto? No, 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 l'ho detto a pochissime persone, forse l'ho detto a tre persone, non di più, anche perché non mi importa di aver successo, però un po' temo le brutte figure, non mi piacciono le brutte figure, per cui ho detto vabbè, tanto chi lo sa se io lo mando, non è che stia dicendo lo sto mandando e poi nessuno l'ha voluto, no, faccio tutto da sola E quindi l'ho mandato, l'ho mandato a ottobre del 2003, poi a giugno del 2004, quindi ottobre, novembre, dicembre, 6 più 3, 9, cioè dopo 9 mesi Un tempo significativo di attesa Stranissimo, mi arriva questa telefonata che dice, sono Ginevra Vompiani, di nottetempo, e Milena Agus, vorremmo pubblicare il suo libro E io ho detto, chi è adesso questa persona così cattiva che mi fa questo scherzo? Ho detto, non mi faccia questo scherzo, chi gliel'ha detto che gli ho spedito il libro? E io, a me non l'ha detto nessuno, ma noi l'abbiamo ricevuto E tu le hai chiesto un codice fiscale Mi dica davvero chi è, vabbè, comunque insomma, allora mi ha detto, io sono veramente Ginevra Vompiani, ho letto il libro, mi è piaciuto molto e noi vorremmo pubblicarlo E comunque era vero e da lì è nata Cosa hai fatto quando hai riattaccato quella telefonata? Sono stata tantissimo contenta, sì, moltissimo contenta Sì, molto emozionata Perché è una cosa, insomma, io penso che anche alla persona più modesta, meno in cerca di glorie, faccia piacere, piacere, no? Certo E questo è impossibile, che non succeda E anche a me piace piacere, per cui l'idea che questa mia creatura fosse davvero piaciuta E poi non così, ecco, perché magari è facile dire, ah mi piace molto, brava, no? Questi ci rischiavano, ci rischiavano soldi E quindi, insomma, pubblicare un libro da parte di un editore vuol dire che proprio ci devi credere E quindi ero molto, molto emozionata Intanto è molto interessante il loro nome, loro si chiamano Nottetempo Nottetempo Perché l'idea è quella di fare dei libri molto agili, scritti, grandi Affinché le persone li possano leggere proprio la notte Prima di addormentarsi, per non avere il classico peso del tomo Che ti schiaccia E' carina come idea Che ti schiaccia